Immancabili nelle feste comandate la vicinanza della città di Arezzo a chi si trova ricoverato all'ospedale San Donato a maggior ragione se sono bimbi. Il Rotary ha scelto le uova dell'Ail facendo così un doppio servizio. Abbiamo volutamente scelto delle uova di un'associazione che lotta contro una malattia tremenda che purtroppo riguarda anche tanti bambini e quindi poi nella catena di solidarietà abbiamo pensato bene di donare queste uova ai bambini che sono qui ricoverati nel reparto pediatrico nella speranza che porti un minimo di gioia per questi giorni di festa. In questi giorni una gara di solidarietà come avviene anche a Natale del resto dottore. Arezzo non vi vuole lasciare soli voi e i vostri pazienti. È una cosa bellissima, ci dà tanta soddisfazione per noi operatori ma soprattutto anche vedere le famiglie di questi minori che sono seguiti qui in ospedale e sono presenti nei nostri ambulatori, nella nostra decenza e in pronto soccorso. Ci sono bambini che sono degenti per alcuni giorni, altri degenze brevi, altri sono di passaggio in ambulatori del pronto soccorso pediatrico, quindi è un momento per loro di festa. Anche per le famiglie perché non dimentichiamo che una mamma che ha un figlio ricoverato ha bisogno anche lei di un supporto. Sì, questi momenti sono sempre molto utili anche per il personale perché quindi abbassare un pochino lo stress con queste occasioni è una cosa veramente molto bella. Grazie. Grazie. Grazie.